Amici di YouTube, amici di FIFA, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovissimo video, signori. Continuiamo la carriera con la Juventus. Ci abbiamo subito la partita di Champions League contro il Benfica, quindi di nuovo. Intanto avanziamo per arrivare appunto al big match. Ed eccoci qua, la conferenza stampa la saltiamo, naturalmente. Io lascerei tutti i titolari perché comunque è una partita bella e importante. E niente, boys, andiamo a giocarci Juventus-Benfica allo stadio. Eccoci qua, boys, tutto pronto. Il Benfica dà inizio alla gara. Dentro per Belotti, dentro ancora per Chiesa che la piazza. Pau Torres, ma un po' di confusione. Belotti riesce a prendere una palla per Federico. La domestica, Federico! La piazza! Federico Chiesa, 1-0 Juve. Andiamo! Primo gol in quattro partite in Champions per Federico Chiesa. Con la suola. Recupera Pau Torres, un po' pressato. Occhio! Orta! Non va. Sulla fascia. Torna indietro da Chico Chiesa. Sergei, dentro per il polipo. Il polipo! Odisseas. Dice di no. Gestione palla del Benfica. L'apertura verso Ciao Mario. Ciao Mario la mette dentro. Chiude Pau. Attenzione però! Ribattuto da Bremer. Rischio Juve. Voi testa di Mendes. Federico Chiesa. Si appoggia su Pogba. Ancora lo scambio. Belotti. Sale Mendes. Tiki Taka Juve. Se ne va Mendes. Non lo coprono. Mette il cross. Arriva De Bele! Da dietro! 2-0 lo scadere. Osman De Bele! Gran cross. Tutto solo, più o meno. Più o meno tutto solo. E finisce qua il primo tempo, signori. Non potevamo concludere nel modo migliore, ragazzi. Può ripartire il polipo, ma subito da Belotti. Il gallo Belotti dentro per Dusan Vlaovic. Che ha spazio. Dusan! Altra parata incredibile di Odisseas. Dalla bandierina. Sembra a cercare Bremer. La palla rimane lì. Rischio Benfica. Prova a spazzare. Recupera però la Juve. Dembele. Dentro per Chiesa. Doppi passi. Se ne va Federico. Federico! Che giocata! Di Federico Chiesa. 3-0 quindi, signori. Libera bene la difesa della Juve. Caio Ciorges allunga la palla. Recupera il Benfica. Enzo. Verso Cio Mario. Attenzione. Bremer sontuoso in difesa. Pugba. Vlaovic. Bella la palla per Dembele. Beolo. Colpo di testa di Sergei. Vlaovic. Si fa vedere Caglio Ciorci. Pura Sergei. Se ne va Vlaovic. Bella palla. Dussan! E la chiude definitivamente. Dussan Vlaovic. 4-0 Juve. Distrutto il Benfica. E finisce qui, boys. 4-0 convincente. Siamo un passo alla qualificazione dagli ottavi. Quindi andiamo avanti ragazzi. Ci abbiamo qualcosa in posta. Però niente di che. Allora a questo punto vogliamo diretti contro l'Atalanta ragazzi. Vediamo la classifica. Siamo secondi. A 5 punti dal Milan. Siamo lontani. L'Atalanta è quinta. Quindi pure questa sarà una bella partita tosta. I titolari stanno abbastanza in forma. Vediamo se possiamo far giocare a Kostic. Però in realtà. Penso che lo faremo entrare dalla panchina. Perché Chiesa lo vedo più in forma a questo momento. Ricordo che ci abbiamo sempre il povero Mbappé. Probabilmente ha. Non so se andrà a fine stagione. Se tornerà. Infortunato. E niente ragazzi. Andiamo. Sempre allo Stadium. Juventus. Atalanta. Tutto esaurito allo Stadium. Si parte signori. L'Atalanta dal calcio d'inizio. Piccoli. L'apertura verso Shopee. O Sopi. Subito dentro. Parte subito il tiro. Chesney. Boga. Questo già esiste. Alvarez. Attenzione. È partita a mille l'Atalanta. Ribattuto il tiro. Oh brutto qui. Brutto questo fallo. Dusan Vlauric. Attenzione. Aspetta. Osman Dembele. Che se ne va. Dembele. Dembele. La palla ancora lì. Dopo la parata. Dembele. Con cattiveria. Al primo tentativo. 1-0 Juve. Vediamo l'Atalanta. Se proverà subito la reazione. Ando qui sbaglia. Il passaggio. La recupera Savic. Dentro per Dusan. L'apertura verso Chiesa. Chiesa prova a piazzarla. Collini. Colpo di testa ancora del polipo. Il Gallo Melotti. Con la possesso Juve. Forse c'era un fallo di mano. Federico Chiesa. Ancora Chiesa. Chiesa che prova ancora a piazzare. Collini. Bugà. Chiude Pau Torres. Bremer. Bugba. Velotti. Dentro per Vlaovic. La palla è buona. Dusan. Vlaovic. Il capo cannoniere della Serie A. Che azione ragazzi. Che botta di Dusan Vlaovic. Ancora Super Juve allo Stadium. Dopo la partita con il Benfica. Stiamo volando signori. Alla meglio. Su Mandesh. Ancora Soppi. Prova a cambiare gioco. Sergei sta attento. Si può ripartire in contropiede. Dembélé. L'apertura verso Velotti. Sopra per Mandesh. Mandesh. In crocia. E 3 a 0. 3 a 0. Che Juve ragazzi. Che Juve. Vlaovic. Dentro per il polipo. Con lo scavino. Gollini. Velotti. Per Chiesa. Vlaovic. Si fa vedere polipo. Pugba. Pugba. Ancora Gollini. Finisce qui. Il primo tempo. 3 a 0 ragazzi. Oh. Brutto. Cinsidi. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Sergei. Si appoggia su Chiesa. Passaggio un po' così così. Secondo me Bois possiamo fare un po' dei cambi però. Allora facciamo così. Dentro Kostic almeno è felice. Facioli per Pugba. Cancellieri per Dembélé. Cagliucio per Belotti. Andiamo così. Con questo blocco. Torna indietro. Passaggio rischioso. Bremer. Sbaglia il passaggio poi verso Dalot. Gosens. Attenzione a Gosens. Gosens la mette dentro. Bremer riesce a tenerla. Attenzione però ancora al pressing dell'Atalanta. E c'è il tiro. E il gol di Marinovski. 3 a 1. Si fa sotto l'Atalanta. Gran gol di Marinovski. Che controllo ragazzi. Vlaovic. C'è l'apertura verso Kostic. Kostic. Palo. Incredibile raga. Sergei. Sotto. Per Caio George. Ma che tiro ha fatto. Segna anche lui. Caio George. 4 a 1. Zappacosta. Dentro per Cop Miners. Malinovski. Ederson. Cop Miners. L'apertura verso Zappacosta. Ma finisce qui signori. 4 a 1 allo Stadium. Molto bene ragazzi. Vediamo se abbiamo recuperato qualcosa in classifica. 28 punti. 28 punti 33. No. Stiamo sempre a meno 5. Andiamo avanti. Ci aspetta la partita con la Lazio. Ma c'è tipo. C'è tipo la sosta. Andiamo andiamo andiamo. Belli riposati contro la Lazio. Dai. Eccoci qua. Ci abbiamo però la prossima partita col Borussia Dortmund. Ma in realtà ce ne può fregare poco raga. In caso facciamo i cambi durante la partita. Andiamo. All'Olimpico. Ci siamo signori. Tutto pronto all'Olimpico. Ma chi è? Suarez quello? Cazzo è? Ma chi c'è la Lazio? Luca. Chiude Savic. L'ex della partita. Il polipo. Attenzione a Vlaovic. Si fa vedere Dembélé. 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 Incrocia Dembélé. 1-0 Juve. Osman. Fucking Dembélé. E andiamo signori. 1-0. Anche all'Olimpico. Chiude Federico Chiesa. Un po' leziosa la Lazio. Chiesa. Finita il tiro. Buona piazza. Pianta. Vole per forza fare questo tiro a giro Chiesa. Va Dembélé dalla bandierina. Non c'è nessuno che può spizzare della Juve. La palla torna a Dembélé. Dembélé. La domestica. Dembélé. Supera l'uomo. Va la Savic. Che prova a piazzarla. Fuori di nulla. Pogba. Prova a servire Vlaovic. Chiude la Lazio. Che lo spazza però. E finisce qua. Il primo tempo signori. 1-0. Gol di Osman Dembélé. Si fa vedere Dembélé. Se ne va Dembélé. Dentro il pallone per Vlaovic. Si allunga un po' il pallone. La recupera però ancora Osman. Dembélé. Dembélé. Può andare al cross. Castagna. Calcio d'angolo. Fuori Luca. Potremmo fare dei cambi pure noi ragazzi. Già abbiamo il polipo che è un po' stanco. Dentro Facioli. E dentro. Mettiamo Kostic. E qua. Invertiamo Chiesa. E per ora basta così. L'apertura. Ma Premier chiude. Attenzione al pressing Lazio. Sbaglia da lot. Schiavi Aviglia. Parte il tiro Scesni. Spazza Kostic. Attenzione a Schiavi Aviglia. Parte il tiro. Kostic. Si allunga un po' il pallone. Riesce a servire Vlaovic. Ancora per Kostic. Se ne va Filip. Filip Kostic. Se ne va. C'è la finta. Appoggia dietro. Savic. No è Belotti. Belotti. Mi sembrava Savic ragazzi. Il Gallo. Forse la chiude. Forse la chiude il Gallo. Grande assist. Di Filip Kostic. Belotti. Per Chiesa. Dentro per Vlaovic. Dusan. E la chiude. Dusan Vlaovic. Che gol di Dusan. Con il destro addirittura. Che non è il suo piede. Che non ha fatto tempo e spazio per battere la rete. Attenzione. la palla per Zeta Rian. Chiude Pau Torres. E finisce qui. 3 a 0 ragazzi. All'Olimpico. Super Juve. Altra grande prestazione. Quindi ragazzi. ci attende la partita con il Borussia Dortmund. E poi con l'Inter. Poi eccetera. Quindi questo episodio. Come già detto. Lo concludiamo qua. Io vi ringrazio. Se avete visto il video. Fino a qua. Mi raccomando. Lasciate tanti like. Iscrivetevi. Attivate la campanella delle notifiche. E niente boys. Bella. E alla prossima. All'Olimpico.